di Rebecca Valentino, oggi non solo bordocampista ma anche intervistatrice del nostro parterre de Roi. Sono partite le squadre, attacca subito la Juventus con Corsaro, respinge però la difesa degli insuperabili. La Juventus ricomincia con Manolio da dietro che scarica sul numero 3 Berrutti, Berrutti allarga su Dardaiac il numero 14 Dardaiac cerca il capitano, Ida Fabrizio con il numero 7 perennemente impegnato dai propri compagni Ancora Ida che cerca il centravanti, Corsaro con il numero 10, ancora Corsaro, il cross al centro, si libera Vezzani Il tiro è la rete, Juventus in vantaggio, subito al primo minuto